Ciao a tutti e a tutti, bentornati e bentornati in un nuovo vlog. E niente, ieri mattina sono stata in palestra, poi al pomeriggio mi sono rilassata perché ero esausta, ve lo dico. E poi alla sera sono stata un po' con mia madre, ho pensato bene di stare un po' con lei, visto che in questi giorni non ci parliamo poi tanto. Ma ormai praticamente era quando ho lasciato a scuola che la situazione è diventata più grave di quello che era prima. Però vabbè, e oltre a quello niente, a parte il fatto che sono mezza adolorante per vedere il fatto che ho fatto praticamente un po' palestra, mi sono stancata da morire. E oltre a quello niente, per la prima volta la mia insegnante di quel corso ha indovinato il mio nome, l'ha azzeccato addirittura ben tre volte. E oltre a quello niente, io adesso vi saluto e ci vediamo tra poco con il video di oggi che sarebbe sabato... Sabato... aspettate, ve lo dico con esattezza... Sabato 20 gennaio 2024. Ciao!